Anche quest'anno torna l'influenza. È il momento di fare il vaccino. Il vaccino è la protezione più efficace e sicura per prevenire l'influenza e le sue complicanze, che per alcune persone rappresentano un rischio molto serio. I virus influenzali mutano spesso, per questo ogni anno vengono utilizzati i vaccini più adatti a contrastarli. Con la vaccinazione non proteggi solo te stesso, difendi anche chi ti sta vicino e riduci la circolazione della malattia. Vaccinarsi è gratuito e necessario per le donne in gravidanza, persone di età pari o superiore a 65 anni, adulti e bambini con patologie croniche, operatori sociosanitari, addetti ai servizi pubblici essenziali, donatori di sangue e personale di allevamenti e macelli. Il periodo più opportuno per la vaccinazione è compreso tra novembre e dicembre. Le vaccinazioni vengono effettuate dal medico o pediatra di base e dai servizi vaccinali dell'azienda USL. Per informazioni, chiedi al tuo medico, al tuo pediatra o chiama il numero verde gratuito 800 033 033. Non farti influenzare, proteggi la tua salute con il vaccino. Campania a cura del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna.